Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo all'easy anti cheat che non è installato sul pc quindi in questo caso con i nuovi metodi più i metodi di epic games come puoi vedere c'è la pagina riguardo all'easy anti cheat su installa e disinstalla l'easy anti cheat e noi quindi andremo a basarci sui conflitti malware, l'installazione dell'easy anti cheat e aggiornamenti del sistema quindi solo questo faremo quindi andiamo un attimo sulla sicurezza di windows per creare così un'eccezione alla cartella di fortnet quindi protezione da virus e minacce perché così facendo windows defender non cancellerà così l'applicazione dell'easy anti cheat assieme a fortnet protezione da virus e minacce, scendi fino a giù fino a trovare gestisci impostazioni scendi fino a giù fino a trovare esclusioni, aggiungi o rimuovi esclusioni e facciamo così come puoi vedere io ho aggiunto così la cartella dell'easy anti cheat nella cartella di fortnet quindi fai su aggiungere esclusione e cartella vai sul disco dove hai installato fortnet, questo è fortnet fortnet game binaris 164 easy anti cheat e inserisci così la cartella dell'easy anti cheat e fai annulla chiudiamo qua facciamo anche gestisci, verifica così fortnet se non dovesse funzionare possiamo sempre andare su tre puntini gestisci nella cartella di fortnet, fortnet game binaris 164 e cancelli completamente questa cartella dell'easy anti cheat la cancelli e basta oppure può essere andiamo sempre nella sua cartella eccola qua, easy anti cheat trattino basso eos trattino basso setup mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilità, ottimizzazione schermo intero esegui questo programma sempre come amministratore e fai applica e fai ok se non dovesse funzionare andiamo direttamente sul nostro disco locale c questo pc disco locale c scendi fino a giù fino a trovare la cartella programmi per 86 scendi fino a giù fino a trovare la cartella dell'easy anti cheat trattino basso eos ed eccola qua tasto destro sopra la fai copia e lo sostituisci con questo e cancelli questo esegui come amministratore il programma se non dovesse funzionare cancella di nuovo la cartella dell'easy anti cheat e fai la verifica al gioco ti ripristinerà così le cartelle e potrai avviare Fortnite senza problemi ora andiamo direttamente sulla guida di Epic Games eccola qua link in descrizione se vi interessa tutto su l'easy anti cheat verifica dell'hardware installa e disinstalla conflitti malware che l'abbiamo già fatto registro di sistema e verifica l'installazione e adesso andremo a fare un aggiornamento del servizio quindi questi sono così i servizi che dobbiamo installare sul nostro pc ci ho fatto una guida anche sopra che troverai in alto a destra c'è una playlist intera piena di video di Fortnite quindi noi adesso andremo a scaricare e installare il Visual Studio 2015 fino al 2022 RM64 per 86 e per il 64 ed eccoli qua una volta fatto eseguiamo come amministratore tutti e tre accetto i termini e le condizioni di licenza e facciamo installa stessa cosa anche con l'altro ripristina stessa cosa anche con quest'altro ripristina questo non ha potuto installarlo per il tipo di processore quindi chiudiamolo questi altri due me li installerà perfettamente perché l'ho fatto già un sacco di volte qui dobbiamo riavviare il nostro sistema chiudi e chiudi puoi anche cancellarli perché li hai già installati una volta fatto andiamo direttamente su sicurezza di Windows un'altra volta protezione di Firewall e della rete consenti app tramite Firewall ed eccoli qua andiamo su modifiche impostazioni consenti un'altra app e andiamo così a prendere il setup dell'Easy Antichit possiamo o prendere quello di Fortnite oppure quello in generale sul nostro computer noi andremo a farlo su tutti e due ed eccolo qua e faccio apri e faccio aggiungi una volta così aggiunto l'Easy Antichit ce ne sono due come puoi vedere due ce ne sono e faccio ok faccio di nuovo consenti app tramite Firewall faccio modifiche impostazioni consenti un'altra app sfoglia vado in questo PC disco locale programmi per 86 fino a trovare l'Easy Antichit trattino basso EOS e ci prendo questo e faccio apri basta tutti e tre e faccio ok una volta fatto abbiamo finito questi sono i metodi se hai altri problemi mi raccomando commenta sotto al video fammi sapere quale tipo di problema riscontri tipo risolvi tutti i problemi questo problema dopo due giorni o tre giorni ti esce di nuovo quindi devi rifare di nuovo la procedura da capo quindi vorrei capire meglio qual è questo problema riguardo a installare continuamente l'Easy Antichit sempre su PC quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao